E' stato sottoscritto stamattina in provincia l'accordo di collaborazione finalizzato alla prevenzione degli incendi boschivi e dei fenomeni di dissesto idrogeologico lungo la rete viabile provinciale tra la regione Campania, la provincia di Avellino, Luncem, Campania, le comunità montane, Alta Erpina, Partenio, Vallo di Lauro, Terminio, Cervialto e Uffita. Questi accordi con la provincia di Avellino già siglati per la verità Beneventi e Salerno che metteranno in condizione anche sulla viabilità provinciale di dare una mano agli enti che sono rimasti senza risorse e senza personale quindi un'attività di antincendio ma anche di manutenzione con lo sfalcio dell'erba sulle strade provinciali. Il fenomeno degli incendi boschivi già da alcuni giorni sta interessando i territori irpini. Proprio ieri sera le fiamme hanno messo a rischio la percorribilità della strada provinciale Carifevallata. Bisogna avere una grande attività di prevenzione e di collaborazione fra tutti gli enti. Quello che abbiamo fatto oggi ha proprio questo significato, una collaborazione forte fra regione, provincia, comunità montane, i lavoratori del settore sia quelli a tempo indeterminato che a tempo determinato che noi abbiamo regolarmente pagato nel corso di questi anni anche provvedendo a fare una serie di anticipazioni finanziarie. Naturalmente come provincia abbiamo meno dipendenti di quelli che hanno le comunità montane, che hanno territori molto più estesi ma anche noi abbiamo collaborato lo scorso anno per gli incendi intervenendo per esempio a Montevergine, territorio non di competenza della provincia dal punto di vista degli interventi forestali e su cui abbiamo collaborato come era doveroso fare con vigili del fuoco, volontari della protezione civile, con gli operai della comunità montana del Terminio Cervialto che erano impegnati in una lotta molto molto importante. Io spero che quest'anno non si verifichi quello che c'è stato l'anno scorso, è stato un anno drammatico, tragico direi, il 2017.